Tanto tempo fa, in un giorno molto particolare, il mio specchio convinse qualcuno a lasciare il suo letto. E gli permise di entrare nel mio laboratorio. Non so se lo specchio stesse agendo con furbizie o malizie. Forse sapeva che quel curioso intruso avrebbe avuto una parte nel mio progetto. Stavo dando gli ultimi tocchi alla mia più recente creazione. Un mondo per le cose che erano state dimenticate. Soddisfatto dei progressi, riposi il mio pennello magico e mi ritirai nelle mie stanze. Se avessi saputo cosa sarebbe successo, avrei chiuso tutto a chiave. Vernice, pennello e solvente. Grazie a tutti. Sentii dei rumori e corsi a vedere cos'era successo Ma era troppo tardi Il mondo che avevo creato era devastato, una rovina Il misterioso intruso era sparito Non avevo scoperto chi fosse, ma non ci misi molto a capirlo Non avevo scoperto Non avevo scoperto Non avevo scoperto Grazie a tutti.